Musica Pensi di avervi fatto già vedere questa idea per il pranzo in un altro video ma è semplicemente riso, zucchine e salmone affumicato tirato a cubetti unirò il salmone, il riso alle zucchine e ecco il risultato finale è molto pratica e veloce e assolutamente delizioso Gli ingredienti base per questa ricetta sono i vita fiber e le proteine in polvere Poi dipendentemente dal gusto di proteine che scegliete e dal mix che mettete insieme alle proteine gli darete diversi gusti Qui ho voluto fare gusto vaniglia e mandorle Allora ho iniziato sciogliendo 30 grammi di vita fiber in 10 grammi di acqua Mi raccomando la dose di acqua deve essere precisa se no non viene lo sciroppo Quindi unisco il vita fiber all'acqua e mescolo fino a che vedo che non si è già un po' unito e sciolto Dopo accendo il fuoco sotto il pentolino e mescolo e faccio sobollire fino a quando non raggiungo delle bollicine Quando ho le bollicine spengo e attendo qualche minuto che si raffreddi Poi unisco il tutto insieme alle proteine mischiate alle mandorle che avevo già messo da parte 30 grammi di proteine e 10 grammi di mandorle Mescolo tutto in una ciotola e prima mescolo con la spatolina di silicone e poi passo alle mani Quindi creo una massa che poi modello con la carta da forno E cerco di dargli una forma a barretta Ho trovato questa ricetta sul sito di Lefit Chef e ho voluto provarla Infatti se avete visto il mio video precedente avevo preso il vita fiber apposta Perché una barretta quest costa all'incirca 2 euro e mezzo se siamo fortunati a trovarla Mentre questa non ho fatto il conto del food cost ma insomma viene circa 50 centesimi secondo me Se non meno Quindi do la forma della barretta, la cartoccio, la cella in carto e la metto in frigo fino al momento del consumo E questo è il risultato finale Ma hai visto che tramonto che c'è? Vieni a vedere il tramonto Ma cosa è finita? La barretta, sapeva di marzapane Ma do, quella barretta era, cioè ti giuro Senti ma com'era questa barretta Ne voglio un'altra Ma troppe proteine non si possono mangiare più di una al giorno 30 grammi proteine sono tanti Non hai il dito davanti? No no, in quell'istante Ciao Ciao No no, ciao Luna Sì comunque io mi sto congelando Sono in pigiama fuori e io non te lo volevo dire Anch'io Anzi Alle gambe Sì alle gambe Dai Me l'ha fatto Luna Ah è il famoso buco Eh ma io non ho i pantaloni leggeri Io non ho i pantaloni leggeri Ho la maglia fammi entrare Mi è arrivato un nuovo pacco Che ho ordinato Questa volta da Muscle Nutrition E ho deciso di aprirlo qui in diretta Per con voi Allora Questa volta ho ordinato Sciroppo della Walden Farms Questo lo uso sopra lo yogurt la mattina È uno sciroppo zero calorie Zero tutto È praticamente solo dolcificanti E tutte cose non naturali Se usato come al solito Con parsimonia e con giudizio Non fa male Fantastiche proteine Sempre della Quest Perché senza glutine Senza soia Questa volta al cioccolato Se avete visto il mio video precedente L'avevo presa alla vaniglia Mi sono piaciuto un sacco E ci ho fatto un sacco di ricette E adesso non vedo l'ora di usare queste Per continuare a fare altre ricette E oggi mi è arrivato anche il secondo pacco che avevo ordinato Questa volta nuovamente da Bulk Powders E lo apriamo insieme Ho ordinato Due pacchi da un chilo di mandorle intere Queste le uso nello yogurt E comunque sono un'ottima fonte di grassi e proteine No non due pacchi Quattro perché sono da 500 grammi Va bene Le ho comprate online Perché costano circa 17 euro E le ho trovate più conveniente rispetto a dove le compro di solito Ho fatto questo acquisto su Bulk Powders Perché mi ha irretito lo sconto del 20% che hanno avuto in questa settimana Ho preso un chilo di semi di chia Sono quindi due pacchi da 500 grammi Perché appunto costano molto di meno rispetto Basta Al mio negozio E quindi è molto più conveniente E alla fine ho preso un pacco di granella di cacao Questo è 100% Organic Raw Cacao Nips E queste sono tipo delle palline penso di cioccolato Che adoro mettere nei pancakes Perché poi quando rimordi e trovi questi cubetti di cioccolato amaro Fantastico Questi sono tutti i miei acquisti C'era lo sconto quindi un po' sono scusata no? Poi sono cose che uso